Sono quattro tappe, si comincia dalla Sicilia occidentale e poi si conclude in questo straordinario set cinematografico che è appunto l'Etna. Saranno interessati decine di comuni, abbiamo migliorato pur non essendo nostra competenza la viabilità provinciale interessata, io credo che sarà ancora una volta una manifestazione di gioia, una festa popolare, ma anche la possibilità di riaffermare una tradizione, quella del ciclismo, che in Sicilia ha radici antiche e popolari. È una grande e preziosa occasione per promuovere in Italia e all'estero un'altra immagine della Sicilia, non legata ai luoghi comuni, ma legata alla bellezza paesaggistica, culturale, artistica, monumentale di questa nostra isola e allo straordinario spirito di accoglienza dei siciliani.